Recita con Edoardo De Filippo, Pupella Maggio, Gino Marringola, Luca De Filippo, Luisa Conte e Vincenzo Salemme, partecipando a Natale in Casa Cupiello, Le Voci di Dentro, Napoli Milionaria, Filumena Marturano, Questi Fantasmi, Il Contratto, Quei Figuri di Tanti Anni Fa, Na Santarella, Io, L'Erede e Le Bugie con le Gambe Lunghe. La Donna è Immobile, Tre Cazzune Fortunate, Nuturco Napolitano, Uomo e Galantuomo, Don Giovanni, Oscar Faglietto e Non ti Pago. Nel 1982 partecipa al Festival dell'Operetta presso il Teatro Verdi di Trieste con lo spettacolo La Rosa di Stambul, recita con Gigi Savoia, Gian Felice Imparato e Marioletta Bineri, mentre al cinema interpreta il magistrato.